saluto a tutti oggi voglio parlare della reabiliazione che le donne sono molto attente e diciamo eseguono spesso in varie parti del corpo per esempio i peli delle ascelle sono fastidiosi specialmente per le donne ma io comunque è un'opinione mia personale questo fastidio non lo vedo si sono ben curate e pulite però sembra che questa sia la musica corrente quindi non solo lì ma addirittura al pub siamo arrivati insomma non avendo tradizioni africane noi comunque da un po di ricerche che ho fatto visto che le migliori perché diciamo le cose nella vita non devono essere on off ossia lampadina deve essere accesa o spenta la lampadina può essere anche una via di mezzo e le francesi hanno insegnato questo e hanno fatto una riduzione dei peli diciamo del pub e che davano che erano particolarmente brutti e uscivano magari dalle mutandine da altre parti e e quindi che hanno fatto hanno fatto una riduzione con delle normali macchinette elettriche che usiamo anche per i capelli e decidiamo di lasciare 2 mm 3 eccetera perché se facciamo una rasatura completa a zero poi quando i peli cominciano a spuntare i peli nuovi ebbè non credo che lì sia tanto da divertirsi perché diciamo questi danno un senso di in pratica sono danno fastidio appena rinascono danno fastidio essendo corti e cortissimi ti irritano ti infastidiscono bene detto questo io non sono stato mai d'accordo perché qui siamo sempre al discorso noi prendiamo sempre le cose diciamo che non sono buone prendiamo sempre le cose cattive e dagli altri paesi se l'americano vuole dosarsi è padrone ma perché lo dobbiamo fare pure noi quando i peli poi rispultano quelli pungono quelli pungono ecco e allora sono fastidiosi ad avere un rapporto e ad avere un rapporto con una donna in questo modo quindi e poi anche diciamo l'aspetto secondo il mio sempre modesto parere non è non è tanto bello da vedersi una donna fatta in questo modo noi non viviamo in Africa abbiamo l'acqua per fortuna e bisogna usare una certa igiene chiaramente i peli possono emettere un cattivo odore perché magari uno suda eccetera eccetera ma l'acqua è fatta per lavarsi quindi c'è un business di macchinette macchinette meccaniche di pomade ma ragazze ma ci avete mai pensato che queste pomade questa roba poi vengono assorbite dalla pelle perché la pelle c'è i pori che vanno in circolo nell'organismo poi ce l'andiamo avvelenare da soli non andiamo a piangere ecco allora questo era un video che io volevo fare da tempo adesso anche per una questione non è bella una donna completamente è chiaro che i peli in faccia i peli nelle gambe non è che sono belli ma addirittura il pub diciamo il bene comunque sia per chi volersi proprio pelarsi tipo iubrinnel lo può fare basta l'igiene lavarsi quanto costano le creme per depilarsi una tombola poi che c'entra in circolo nel sangue non lo sappiamo non lo sa nessuno perché nessuno lo dice e quindi continuiamo su questa strada che andiamo bene io adesso voglio spiegarvi alcune cose questi peli ormai è una moda quindi tutti cercano di sbarazzarsene però c'è anche un metodo naturale il quale perché noi dobbiamo limitare i danni è come una guerra in guerra che cosa si fa si cerca di limitare i danni le perdite no? e così dobbiamo fare noi allora possiamo agire con un metodo naturale che è composto solo da due ingredienti che possono aiutare a rimuovere i peli della scelle in solo due minuti non è che con un giorno abbiamo risolto il problema ma questi due ingredienti sono zucchero e limone venivano usate dalla storia che sono insegne le donne in Asia che hanno usato questo metodo per secoli ma lì l'acqua boh non so noi abbiamo tutto adesso allora vabbè bando alle chiacchiere come si dovrebbe che dobbiamo fare allora allora mescoliamo un cucchiaio di zucchero eh e due cucchiai di succo di limone e faremo una pasta più facile di così si muore lo applichiamo sulle ascelle e lo facciamo agire per un paio di minuti infine viene pulito con un asciugamano e ripetiamo la procedura due volte a settimana vi accorgerete che con ripetere dei trattamenti i peli diventeranno sempre meno visibili quindi eh potete usare eh questa tecnica ehm non rischiate nulla perché agisce sul pelo ma queste sostanze non si infiltrano ma poi sono sostanze naturali eh nella pelle che potrebbe farci altri danni ehm se eh funziona con i peli del diciamo delle ascelle che sono abbastanza consistenti io penso che questo trattamento può essere fatto in qualsiasi parte del corpo sulle gambe sulle braccia ehm nel viso delle donne benissimo io ho detto la mia provare non costa nulla eh qui non ci costa nulla poi andiamo a prendere eh magari in farmacia delle creme che ci dissanguano no eh oppure delle cerette che sono dolorosissime questa prova la potete fare quindi poi siccome ognuno di noi è in grado di intendere e di volere eh vedete l'effetto poi decide di andare avanti o eh di smettere però l'alternativa qual è? la ceretta che è dolorosissima bisogna usare delle lamette poi è come quello che si fa la barba la barba più uno la taglia più si rinforza e questo vale per i peli se noi ci dovrebbe essere un trattamento laser ma quello è molto doloroso è più doloroso della ceretta della ceretta ma se poi vogliamo dircela tutta e fino in fondo l'uomo non è che si differenzia dalla donna anche l'uomo può emettere un cattivo odore e quindi che facciamo all'uomo tagliamo anche a lui depiliamo sotto le ascelle e poi ci sono quelli che sono particolarmente pelosi e c'hanno i peli nel petto e cose chi dobbiamo fare a quelli dobbiamo dare fuoco come si fa col pelo del maiale io dico ma chi dobbiamo fare dobbiamo tagliare anche i peli pubblici e tagliamo anche quelli delle gambe quindi questo non va più a lavorare tutto il giorno fa questo lavoro ma l'uomo che fa ma la donna emette cattivo odore l'uomo no questa è una considerazione ma allora quindi dietro questo questa cosa diciamo questa moda c'è qualcosa che non quadra eh cari signori e signori che mi ascoltate quindi questo io lo volevo dire perché è doveroso dirlo per me ci ruota un business la donna pelata rimane brutta comunque voi siete padroni di fare quello che volete anche questa famosa depilazione della parte pubblica ma quando una donna mattina si alza magari impegnata in un lavoro ma che deve fare prima le ascelle poi dopo le facce poi dopo le gambe poi la parte pubblica quando ci va a lavorare a mezzogiorno o se va a stare quattro alla notte poi c'ha e poi dentro la borsetta profumi questo e questo si dovrebbero pure ribellare le donne alla pubblicità perché uno che ascolta dice ma una donna che è diventata una chiave c'è lo sfiato di una fogna e questo fa indignare fa indignare perché c'è qualcosa che non quadra vabbè io comunque sia vi ringrazio per l'ascolto ci vediamo al prossimo video grazie 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 ma se poi vogliamo dircela tutta e fino in fondo ma l'uomo non è che si differenzia dalla donna anche l'uomo può emettere un cattivo odore e quindi che facciamo all'uomo tagliamo anche a lui debiliamo sotto le ascelle e poi ci sono quelli che sono particolarmente pelosi e ci hanno i peli nel petto che dobbiamo fare quelli dobbiamo dare fuoco come si fa col pelo del maiale e io io dico ma chi dobbiamo fare dobbiamo tagliare anche i peli pubblici e tagliamo anche quelli delle gambe quindi questo non va più a lavorare tutto il giorno fa questo lavoro ma è l'uomo che fa ma la donna emette cattivo odore l'uomo no questa è una considerazione ma allora quindi dietro questo questa cosa diciamo questa moda c'è qualcosa che non quadra e cari signori e signori che mi ascoltate quindi questo io lo volevo dire perché è doveroso dirlo per me ci ruota un business la donna pelata rimane brutta comunque voi siete padroni di fare quello che volete anche questa famosa depilazione della parte pubblica ma quando una donna mattina si alza magari impegnata in un lavoro ma che deve fare prima le ascelle e poi dopo le facce poi dopo le gambe poi parte pure quando ci va a lavorare a mezzogiorno e poi dentro la borsetta profumi questo e questo si dovrebbero pure ribellare le donne alla pubblicità ma perché uno che ascolta diceva una donna che è diventata una chiave c'è lo sfiato di una fogna e questo fa indignare fa indignare perché c'è qualcosa che non quadra va beh io comunque sia vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video